E' un sogno, il più bello, entusiasmante e appassionante. Da qui l'invito dell'autrice di questo libro, edito dalle Paoline, intitolato Palla al centro, il valore pedagogico dello sport. A firma di Suor Rosetta Calì, docente di filosofia, pedagogia, psicologia e sociologia, non canimatrice di campi scuola sportivi per adolescenti e preadolescenti, insieme ad allenatori e dirigenti. Salve Suor Rosetta e benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, Palla al centro, qual è l'obiettivo di questo libro, Suor Rosetta? Ma l'obiettivo si tratta di un obiettivo bifronte, come Giano. Il primo è restituire allo sport il suo volto affascinante, primordiale della Grecia antica, kalos gagatos, raggiungere la bellezza integrale della persona, sia all'esterno del corpo, sia la bontà, la bellezza interiore dell'anima. Questo era l'ideale greco. Ecco, vorrei con questo libro dare un piccolo contributo perché lo sport ritorni al suo volto originale. e invito quindi gli allenatori a diventare, ad essere all'educatori, con la consegna non solo sport, ma educazione attraverso lo sport. Questo è il primo. Il secondo è a respiro molto più ampio e ad orizzonte panoramico e a un quadro visivo molto ampio ed è allenare e allenarsi per affrontare in piena forma la gara della vita. Si sa, lo sport è una metafora della vita e bisogna comunque prepararsi, non avviene automaticamente affrontare in questo modo la vita. Questo obiettivo a bifronte nasce il secondo dal considerare la vita come qualcosa da affrontare bene. Il primo nasce dalla riflessione sulla situazione sociale di oggi. Oggi ci troviamo di fronte a una serie di emergenze economica, politica, culturale, sociale. E per me, credo per tutti, alla base di queste emergenze c'è l'emergenza educativa. Non fa eccezione lo sport. Forse soprattutto lo sport. Infatti, alla grande noi troviamo i fatti clamorosi delle partite truccate, dei grossi lucri economici non puliti, del calcio scommesse. Ma anche, come si spiega, lo sportivo che in campo di gioco è fedele alle norme e poi nella vita si rivela un bullo. Ecco, vuol dire che lì si fa attività sportiva, ma non educazione attraverso lo sport. Alla base, quindi, c'è anche una convinzione fondante. Per me, l'educazione è il volano numero uno della trasformazione dello sviluppo sociale, economico, politico. E per me è l'asse fondamentale. Le migliori personalità viaggiano a bordo dell'educazione. Il mio libro, quindi, vuole dare uno spunto a liberarsi da questa situazione e a intraprendere una ripresa. Infatti, il titolo del libro è Palla al centro. Palla al centro, nel gioco del calcio, significa ricominciare. Si dice all'inizio, si dice dopo che si è fatto un gol. Ecco, ricominciare. Noi possiamo benissimo ricominciare con questo, dando, innervando nell'attività sportiva l'educazione. Secondo un progetto, un chiaro progetto educativo, secondo delle, diciamo, delle norme di metodo chiare, sicure. Da qui, quindi per me, il sì che ti non dello sport, del libro, è il libro dice no a che cosa? Lo sport è chiuso alle partite perché? Perché cresce campioni senza cuore, perché considera il ragazzo non persona, ma oggetto, strumento di successo. Dice no allo sport considerato come valore supremo, come l'unico valore della vita. Dice sì invece allo sport educativo perché? Perché lo sport educativo è l'arte di formare il vero uomo. Perché lo sport è il luogo dove io posso vedere, rilevare le qualità, i limiti, i talenti, anche i difetti dei ragazzi. Perché lì si rivela con libertà. Perché lo sport assume la totalità del dinamismo della persona. Lo sport libera la gioia. Lo sport sviluppa il rispetto della norma dentro il campo sportivo e nella vita. Perché lo sport sviluppa il senso della disciplina e dello sforzo. Il valore della vita, l'apertura alla convivenza democratica. Pensiamo ai grandi incontri nazionali e internazionali. Sono bellissimi. Aiutano il ragazzo ad aprire i propri orizzonti. Dice sì all'allenatore che non si limita a scoprire le qualità atletiche del ragazzo in atto o in potenza. Ma soprattutto cerca di scoprire la sua storia per aiutarlo nella sua vita. Per inventare percorsi individualizzati di crescita. Ed è attento a tutte le dimensioni della persona. Dice sì all'allenatore che non sia contento di conquistare palloni d'oro o di far fare centinaia di gol al ragazzo. Ma promuove la leggendaria, bella, favolosa leggenda del ragazzo, favola del ragazzo, che segna gol sui vari versanti della sua personalità. Questo per me è lo sport doc. Sua Rosetta nel libro definisce lo sport un'esplosione di vita. Che significato assume questa affermazione? Per me lo sport è il luogo dello sviluppo della vita sia per i ragazzi che per gli educatori. Ma a determinate condizioni. Se c'è collaborazione, sinergia, unità, convergenza, sussidiarietà, complementarietà, tra tutti quelli che si interessano ai ragazzi. Quindi tra dirigenti, allenatori, genitori. Ecco, se c'è questa convergenza sicuramente lo sport è il luogo dello sviluppo della vita. Quindi se c'è un'equip di più, sto dicendo, un altro passo avanti. Se c'è un'equip che mentre educa i ragazzi, si educa. Noi non possiamo cessare di crescere. Se ognuno prende il timone della sua vita, seguendo una bussola, una rotta di qualità. Se ci si pone alla ricerca del senso della propria vita e si assume questo senso della vita con responsabilità. Se si vive una vita piena, abbondante, una vita dono di sé agli altri. Allora si semina vita e si sviluppa la propria e l'altrui vita. Per me tutto questo chiama in causa l'educatore. L'educatore che deve essere, in questo caso, è salva crisi. L'educatore in questo caso è un educatore firmato. Un educatore che possiede l'arte dello sguardo educativo. Un educatore che sa ascoltare. Cosa molto difficile oggi. Un educatore che gestisce il negozio della fiducia. I ragazzi e la crescita dei ragazzi necessita della fiducia. Se non c'è fiducia, se non avvertono questa fiducia, non c'è autostima e quindi non c'è crescita, non c'è sviluppo. Un educatore che è capace di sintonizzarsi con i singoli nel rapporto individuale, ma con la squadra, col gruppo squadra. E sa sintonizzarsi anche con l'altro, con tutte le lettere maiuscole, con Dio. Allora, se c'è questa capacità, anche se non parla di Dio, lo trasmette. Trasmette questa sua vita di comunione profonda e intima, trasformante col Signore. Questo è veramente l'educatore salva crisi. L'educatore che oggi ci vuole. Perché? Perché i ragazzi, i giovani, sì, sono i protagonisti del processo della propria vita. Guai se manca la loro collaborazione. Ma hanno bisogno di guide. E credo che la carenza più grossa oggi è questa. Guide di persone audaci, hanno bisogno di persone credibili, che fanno quello che dicono a loro. Di persone creative. Non si possono ripetere determinati schemi. Bisogna inventare. Inventare anche il rapporto al gruppo squadra. Il rapporto al singolo. Perché non siamo uguali. Ognuno di noi è diverso dall'altro. Quindi abbiamo bisogno anche di itinerari individualizzati. Ha bisogno oggi di persone coraggiose e speciali. Che giocano il tutto per il tutto. Che giocano per la loro crescita. Ecco, se i ragazzi si incontrano con queste persone, sicuramente collaborano. Deve essere raro. Ci può essere il caso di chi non collabora, di chi chiude le porte anche a un tipo di educatore come questo. Ma non è, diciamo, così frequente il caso. Ha bisogno, come già dicevo poco fa, di persone che abbiano prospettive di metode chiare e sicure. Capace di entrare nel tessuto della vita del ragazzo, dei ragazzi e partire da lì per innervare la sua azione educativa. Questa sarebbe una grande fortuna per la nostra società e una grande fortuna per i ragazzi che lo incontrano. Quindi, Suor Rosetta, il suo è un libro destinato quasi esclusivamente agli allenatori? No, i destinatari del libro sono anche genitori, animatori, docenti, dirigenti sicuramente, allenatori. E sono anche giovani che vogliono vivere una vita di eccellenza. Sono persone, i destinatari sono anche persone che vogliono vivere la vita come una gara di successo, ma non per se stessi, ma per la società, per il mondo. Perché dico che i destinatari sono anche i genitori, non solo i genitori che hanno figli atleti, non solo quei genitori che purtroppo sono cattivi maestri perché pretendono dal loro figlio che diventi il campione. E poi magari a questo punto il figlio e il ragazzo nesce frustrato da questa situazione e non è certamente positiva per il figlio, ma per i genitori anche che non hanno figli sportivi. Perché? Perché i percorsi educativi che indicano sono percorsi educativi che possiamo vivere tutti quanti, che possiamo realizzare, attivare tutti quanti. In ogni capitolo del libro si fa diciamo così centro su un valore e su quel valore indico anche un percorso educativo. Un percorso educativo che è stilato diciamo secondo la grammatica della metodologia e percorsi educativi che non sono soltanto frutto di studio, ma sono sperimentati. Sono quelli stessi che io ho indicato nei campi scuola per aspiranti allenatori e che ho sperimentato anche con gli atleti. Quindi non nascono dal nulla, non nascono solo dallo studio, nascono dall'esperienza. E io ho visto anche i frutti di un cammino per chi l'ha realizzato, per chi ha tenuto conto che il progetto educativo va tradotto in percorsi educativi. Quello che mi ha colpito di questo libro su Rosetta è che è molto schematico, molto chiaro e che ci sono anche diverse domande che vengono poste, diversi interrogativi, anche delle storie raccontate, anche così per fare degli esempi. E quello che emerge è che lo sport può essere davvero un luogo in cui far crescere l'umanità. Anche se, ahimè, alla luce di quello che sta succedendo ultimamente, ma quello che è successo anche negli anni passati, diventa un po' difficile credere in questo. Che appunto lo sport possa rappresentare un luogo in cui far crescere l'umanità di ognuno di noi. Ma se noi ci soffermiamo ai fatti negativi, alle esperienze negative, non partiremo mai. Noi sappiamo e risaputo che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Io sono convinta che se mettessimo su una bilancia, su un piatto della bilancia, tutto il positivo e dall'altro il negativo, il piatto che affonde è proprio quello positivo. Purtroppo fanno clamore solo i fatti negativi. Ci sono tanti, tanti casi in cui veramente il positivo emerge, ma non fa rumore, non fa clamore. Ecco, la vostra televisione sicuramente mette in evidenza il positivo che c'è nella vita, oppure orienta, guida in senso positivo. Ma non sempre, a partire dalla televisione, dai programmi, eccetera, questo avviene. Ora, noi se vogliamo costruire, più che piangerci addosso e fermarci al negativo, dobbiamo partire, ricominciare, avere fiducia. Perché altrimenti incrociamo le braccia e non facciamo niente. È possibile ricostruire il mondo dei giovani? È possibile ricostruire il mondo dello sport? È possibile ricostruire il mondo sociale e politico? Se anche un gruppo minimo parte, si può, ecco, dal pugno di farina, di lievito, far fermentare la massa. Io ho fiducia, io credo nella positività della vita e credo anche che quello che seminiamo, anche se non vediamo i frutti, ne verrà qualcosa, ne verranno i frutti sicuramente, anche se non li vedremo. Ci saranno i risultati positivi. Convinta sempre che non sempre emerge il positivo, ma c'è. Ecco, questo è già un gran bel punto di partenza. Ho apprezzato anche che ha chiuso il libro affidando ai lettori la canzone di Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68, che consiglio ai nostri amici di andare a riascoltarsi. E poi le conclusioni. Scrive su Rosetta. Grazie a tutti. Ok, buon cammino. Questo è quello che augura a ciascuno di colori quali leggeranno poi appunto questo libro, intitolato Palla al centro. Complimenti per la copertina, molto colorata, molto significativa, sua Rosetta. Grazie. Ci sono quattro colori, rosso, verde, un verde pistacchio che è speranza dei giovani, il nero e il bianco. Ci sono illustrati simboli di dieci sport. C'è un atleta veramente vigoroso, simpatico, che corre e poi c'è una V-I, vittoria. Io penso che veramente se si educa attraverso lo sport, la vittoria, il successo c'è. Bene. E allora? Se vuole, volevo dire anche un'altra cosa. Perché ho usato dei modelli sportivi e non sportivi? Perché abbiamo bisogno di punti di riferimento e abbiamo bisogno anche di scoprire che altri ce l'ha fatto, che non siamo soli. E se grandi sportivi sono riusciti in questo, vuol dire che è possibile farcela. Esatto, queste sono parole che davvero ci riempiono di speranza. Come sicuramente riempiranno di speranza coloro i quali leggeranno il libro di Suor Rosetta Calì. Lo ricordiamo, un libro che nasce da un'esperienza trentennale di Suor Rosetta con dirigenti, allenatori e giovani sportivi. Il libro è edito dalle Paoline e si intitola Palla al centro, il valore pedagogico dello sport. Affirma di Suor Rosetta Calì che ringraziamo per essere stata con noi e speriamo di avere prossimamente il nostro ospite per un'altra pubblicazione, per un altro libro. Grazie, a presto. Grazie e auguri. Grazie a tutti.